Giocheranno in casa e avranno la spinta del loro pubblico, sanno che hanno solamente un risultato che è quello della vittoria e quindi può essere un vantaggio ma può essere anche uno svantaggio. È una partita secca, è una finale dove il risultato di Parigi c'è un vantaggio, almeno che non si rifaccia uno 0-0 e si finirebbe a rigore. Credo che però sia molto difficile, sicuramente avremo la possibilità di segnare, questo è poco ma sicuro, però bisogna essere molto bravi anche nella fase di finizione. È una partita aperta e soprattutto è una partita che va tenuta aperta fino alla fine. Vedrò dopo l'allenamento di stasera, però al momento di disponibili rispetto alla partita dell'andata abbiamo Abati che ha giocato e poi Pato che ha fatto un allenamento ieri con la squadra. C'è solo da giocarla, è normale che giocare una volta ogni tre giorni, soprattutto a livello di energie mentali, giocare questi partiti ti porta via energia, però nello stesso tempo ti dà forza, la squadra sta bene fisicamente, per il campionato ho una rosa più ampia a disposizione e quindi se qualcuno sarà stanco dopo la partita di stasera, sabato ne giocheranno altri. Nesta ieri ha fatto allenamento e dovrebbe essere recuperato, però aspetto l'allenamento di stasera prima di avere delle certezze.